Perché è che ti colli tutti quei mattori? Si può sapere. Dio è così. Dio. Beh, Kevin, ti voglio dare una piccola informazione confidenziale a proposito di Dio. A Dio piace guardare. È un guardone giocherellone. Riflettici un po'. Lui dà all'uomo istinti. Ti concede questo straordinario dono e poi che cosa fa? E te lo giuro che lo fa per il suo puro divertimento. Per crearsi il suo bravo, cosmico spot pubblicitario del film. Fissa le regole in contraddizione. Una stronzata universale. Guarda, ma non toccare. Tocca, ma non gustare. Gusta, ma non ingattire. E mentre tu saltelli da un piede all'altro, lui che cosa fa? Se ne sta lì. A sbellicarsi dalle matte risate. Perché è un moralista. È un gran sadico. È un padrone assenteista. Ecco che cos'è. E uno dovrebbe adorarlo? No, mai! Io sto qui col naso ben piccato nella terra. Ci sto fin dall'inizio dei tempi. Ho coltivato ogni sensazione che l'uomo è stato creato per provare. A me interessava quello che l'uomo desiderava. E non l'ho mai giudicato. E sai perché? Perché io non l'ho mai rifiutato. Nonostante la sua maledetta imperfezione. Io sono un fanatico dell'uomo. Sono un umanista. Beh, probabilmente l'ultimo degli umanisti. Chi Kevin ne sanno di mente potrebbe mai negare che il ventesimo secolo non è stato interamente mio. Tutto quanto. Ogni cosa. Tutto mio, Kevin. Sono all'apice. È il mio tempo questo. È il nostro tempo.